Questa criminalità non è sporto. Certamente è un fatto increscioso, non è che ci fa onore. Interrogati in nottata diversi ultra, i carabinieri visionano i numerosi video girati con telefonini postati sui social e le immagini della videosorveglianza per individuare i responsabili degli scontri di ieri a Pagani nel Salernitano prima dell'incontro di calcio di serie D paganese casertana. Il lancio di petardi ha provocato le fiamme che hanno distrutto un autobus con 50 tifosi casertani. Guerriglia urbana, tragedia sfiorata. Penso che non dovrebbero accadere queste cose, dovremmo essere un po' più civili. Io abito proprio di fronte, stavo con i bambini a casa, mi sono chiusa dentro dallo spavento. Durante gli scontri sei feriti lievi, compreso un carabiniere per un taglio e una gamba, otto giorni di guarigione. Molte auto danneggiate dalla furia degli ultra. Il Viminale annuncia pugno duro contro i violenti. In mattinata, vertice a Salerno con il procuratore generale Primicerio, il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, Centure e autorità investigative. Si ricostruiscono le fasi degli incidenti. All'attenzione della magistratura, l'ipotesi di sottovalutazione di una partita a rischio, visti i precedenti disordini, in particolare tra le due tifoserie nel 2016 e anche alla luce degli scontri in autostrada tra Ultra di Napoli e Roma due settimane fa. A Pagani molta indignazione per l'immagine negativa che rimbalza attraverso i media. Allora, dovevano evitare la partita di ieri perché era molto pericoloso, i tifosi non dovevano evitare a Pagani.